5 gol stavolta dopo i 3 di Eboli. A Treviso, Little Service Pesaro rimedia la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Magari punteggia un filo severo, ma la sostanza non fa una piega, come ammetterà Coach Scarpitti alla fine. I suoi restano in quota play-out, azzerata la partenza sprint in casa con l'L84. Eppure in Veneto, primo tempo combattuto ed equilibrato, 2-2 nei primi 20 minuti a seguito di un duplice botta e risposta. Turk per la Kame dopo 4 minuti e l'ex Murillo Schiochet dopo una traversa in tap-in al 9. Quindi, Giapa al dodicesimo per Treviso. E la replica di un altro ex Denner da pivot puro con controllo e gran girata al quattordicesimo. A cavallo dell'intervallo, occasioni da ambo le parti, fino all'episodio spartiacque al settimo della ripresa. Rimessa laterale di Sutton, battuta forte e deviazione sfortunata di Denner, direttamente alle spalle di Putano, 3-2. Pesero reagisce e attacca, ma non riesce a graffiare. A 4 minuti dal gong, Scarpitti si gioca la carta del portiere di movimento, Vava. L'Ital Service produce un paio di potenziali occasioni, ma la rete del nuovo pari non matura. Negli ultimi disperati assalti, due palle perse permettono alla Cami di fissare il punteggio sul 5-2, ancora con Turk e Giapa. Coach Fausto Scarpitti commenterà, siamo mancati in alcune cose, sconfitta meritata. Dietro l'angolo, la seconda sfida casalinga, al pala Megabox in uno dei tre anticipi del venerdì, arriva la fortitudo Pomenzia. L'Ital Service dovrà far valere la voglia di riscatto. L'Ital Service dovrà far valere la voglia di riscatto.